Spiritualità e tradizione nel Natale dei Pugliesi, tra gli eventi musicali, concerti gospel nella cattedrale di Puglia. Buon pomeriggio e buone feste dalla TGR Puglia. Natale secondo tradizione per i pugliesi, dai concerti ai presepi viventi sono tante le iniziative organizzate in tutta la regione in occasione delle festività. Appuntamento con la musica e con la spiritualità a Foggia e Ostuni con l'esibizione di Cori Gospel. Allora sentiamo su questo Vito Marimelli. Dall'altra parte della regione altro strepitoso successo di pubblico nella piazza del Teatro Giordano di Foggia dove quasi 2000 spettatori hanno dato il benvenuto al gruppo di James Hall e i suoi Worship of Praise. Altro nome storico del gospel, altro vincitore di un Grammy nel 2010, dall'incredibile talento dimostrato sin dalla sua tenera età nelle chiese di Brooklyn, storico serbatoio antropologico per i virtuosi del canto religioso a cappella. Insomma una Puglia che rispecchia le ultime tendenze dello spettacolo dal vivo anche in tema di musica sacra, facendole quasi diventare culture di tradizione.